Qui in linea verde, lo scuola, formando e vigore. Ora andiamo a fare un esercizio che aiuta i ragazzi a sviluppare il possesso palla e i tocchi e la conduzione della palla. Porteranno la palla da una linea all'altra nell'area di vigore, sfrutteremo ovviamente le tre linee dell'area e in ogni spazio che va dalla prima linea alla seconda linea dovremo fare un numero di tocchi palla, mentre dalla seconda alla terza faranno un numero superiore di tocchi palla. Ok, va bene. Andiamo sulla linea di partenza, siamo meglio distanziati, quando si vise in due, si vise in più là. Ora porteremo il pallone dalla prima riga alla seconda riga con cinque tocchi. Stoppiamo e torniamo indietro sempre con cinque tocchi. Via! Quanti tocchi hai fatto Ale? Cinque. Cinque, bravo. Tu Chris? Cinque. Bravo, quindi avete fatto cinque. Ora ne facciamo cinque fino alla prima riga e ne facciamo dieci fino alla seconda. Coppiamo e torniamo indietro sempre dieci e cinque. Via! Via! Prince, hai fatto i conti giusti? Cinque, dieci, dieci e cinque. È il turbetto secondo me un po', eh? Dai, ora riproviamo. Ora cambiamo, facciamo dieci tocchi nella linea piccola e ne facciamo cinque fino a quella grande. Stoppiamo il pallone e riprendiamo. Via! Vediamo pure tutti i due piedi. Via! È veloce, dobbiamo essere più rapidi per farne solo cinque. Coppiamo il pallone e ganariamo? Ok, dieci, calma, tutti i due piedi. Bravissimi.